Buon salvone appassionati di Football Manager, io sono Alessandro, Lucullus Games su YouTube e su quella piattaforma viola dove va di live tutti i giorni, trovate il link in descrizione e proprio oggi vi invito a venirci a trovare su quella piattaforma viola perché faremo una challenge davvero tostissima in cui bisogna per forza vincere ogni anno una competizione, bisogna per forza ogni anno cambiare team, cambiare paese non prendere mai una big, bisogna anche fare massimo tre acquisti e bisogna assolutamente cambiare ogni anno formazione e quella formazione non può essere utilizzata l'anno prima, quindi insomma è anche una sfida sui moduli per dimostrare che in realtà si può vincere anche con moduli diversi su Football Manager e non per forza con i soliti ad ogni modo ritorniamo a noi, ritorniamo al journeyman, dopo aver visto quello che abbiamo combinato in Asia oggi andiamo in Sudafrica, andiamo a vedere cosa combiniamo con il Bloomfontein Celtic siamo dunque impegnati nel journeyman hardcore edition che è una challenge a differenza del journeyman normale che invece è uno scenario, qual è la differenza tra challenge e scenario? beh, nello scenario non bisogna per forza vincere un trofeo ben specifico e non bisogna vincerlo entro un determinato quantitativo di stagioni, cosa che invece bisogna imporsi quando si fa una challenge vedo che molti si stanno appunto appassionando le challenge, molti mi chiedono anche come si fanno le challenge sicuramente faremo un video apposito bisogna sicuramente capire una cosa, le challenge si fossilizzano sulla vittoria di determinati trofei entro un determinato tempo inoltre le challenge prevedono di non essere mai esonerati se tu vieni esonerato la challenge automaticamente la perdi mentre questi obblighi non ci sono nello scenario il journeyman hardcore edition è una challenge perché dobbiamo vincere determinati trofei per club e per nazioni entro i 35 stagioni non si può andare oltre noi finora di trofei obbligatori ne abbiamo vinti due abbiamo vinto con la squadra australiana, la Confederation Cup Asiatica che sarebbe un po' la nostra Europa League in salsa asiatica e poi abbiamo vinto la Champions League Asiatica con questa squadra invece cinese oggi però noi ci trasferiamo in Africa al Bloomfontein Celtic vediamo la squadra e vediamo cosa combiniamo in questa nostra avventura africana come potete notare sia i colori sia il nome Bloomfontein Celtic rimandano in realtà ad un'altra squadra, una squadra scozzese che è stata grandiosa negli anni passati ovvero i Celtic c'è subito infatti questo sodalizio che si viene a creare quando questa società viene appunto creata in Sudafrica ma ci sono anche altre squadre che hanno dei sodalizi con altre realtà europee prendiamo ad esempio l'Ajax Cape Town che ovviamente non è l'Ajax olandese però anche qui c'è un sodalizio che viene riportato sia nei colori sia nello stemma come potete notare qui in alto a sinistra ma ritorniamo a noi noi arriviamo nel Bloomfontein Celtic nel febbraio del 2026 andiamo a vedere cosa abbiamo combinato dal 26 febbraio del 2026 a stagione in corso o meglio nelle ultime battute finali della stagione 25-26 con questi ragazzi arrivo quindi a stagione in corso in Sudafrica in Sudafrica è la stagione 25-26 è una stagione che inizia sostanzialmente intorno a luglio-agosto e poi va a concludersi a maggio in questa stagione io arrivo a giocarmi la mia prima partita ufficiale il 3 marzo del 2026 è una squadra che è impegnata solamente in campionato ma non può più vincerlo perché ormai ha perso troppi punti poi vi farò vedere insomma che anche matematicamente era per me impossibile vincerlo e poi però è ancora in una delle tre coppe nazionali che ci sono qui in Sudafrica riesco a portarmi avanti fino in finale di questa FA Cup e riesco anche a vincerla vinciamo 1-0 e mi porto a casa il mio primo trofeo il man of the match è Sali che tra l'altro fa anche gol e con questo 8.2 ci porta a casa la competizione una competizione che viene comunque viziata da una doppia espulsione una per noi, una per la squadra avversaria noi perdiamo il nostro primo calciatore al 35esimo mentre loro perdono al 59esimo meno male che abbiamo fatto il vantaggio un poco prima questa è la classifica finale quindi da subentrante in questa squadra sudafricana vi faccio notare che faccio 55 punti se anche ne avessi fatti 60 ovvero se avessi sostituito quel pareggio e quella sconfitta con due vittorie non avrei cambiato purtroppo nulla ero già estromesso dalla corsa a scudetto ciò però non mi impedisce di portarmi a casa appunto la FA Cup vi faccio notare che ci sono una valanga di coppe qui in Sudafrica ci sono ad esempio la Coppa Continentale che può essere la Champions League africana oppure insomma la nostra equivalente di Coppa UEFA africana non mi ricordo i nomi ma poi lo vedremo Knockout Cup sudafricana FA Cup sudafricana e poi c'è la Super 8 sudafricana che sostanzialmente si gioca tra le prime 8 squadre della stagione precedente insomma queste sono le competizioni che ci sono in Sudafrica andiamo a vedere la rosa questa è la rosa che abbiamo a disposizione il giocatore più forte è questo Ling Dong Shu un giocatore cinese questo la dice lunga perché se il giocatore che costa di più nel tuo team è un giocatore cinese c'è qualquadra che non cosa in Sudafrica ad ogni modo è un portiere che comunque schifo non fa il secondo giocatore più costoso è questo Gustavo Viera che compro perché? perché chiaramente è molto forte a livello fisico quando bisogna giocare in queste divisioni è meglio puntare su giocatori o forti fisicamente o comunque veloci lui non è altissimo per quasi un metro e ottanta ma soprattutto accelerazione, agilità e velocità che in un campionato del genere possono fare la differenza il senza palle è appena sufficiente però attenzione 15 in dribbling, 14 in finalizzazione, 14 in colpo di testa poi il resto delle statistiche è davvero molto vergognoso però nelle statistiche importanti per fare il centro avanti lui ha tutto quello che mi può servire per fare la differenza qui in Sudafrica ad ogni modo il primo e il secondo giocatore sono giocatori che ho appena acquistato ad agosto quindi insomma non mi hanno aiutato nella stagione che è appena terminata ovvero la 25-26 ma mi potranno aiutare per la prossima vi faccio notare quindi i trasferimenti e qui potete notare che Ligue Donshu e Gustavo Viera sono arrivati per l'appunto ad agosto ho anche speso solo un milione e 8 e ne ho incassati solo un milione e 3 perché non voglio utilizzare le rate né i presidi per facilitarmi la situazione vi faccio anche notare che in realtà qualche altro colpo possiamo farlo e lo faremo perché abbiamo ancora 3 milioni da spendere e un bilancio però di soli 6 milioni quindi non è sicuramente una società ricca il bilancio per quanto riguarda il monte in Gaggi è di 3 milioni e 8 attualmente ma può arrivare anche a 4 e 6 quindi insomma qualche altro colpo ce lo riserviamo in questa finestra ancora aperta di mercato la stagione 26-27 essendo settembre però è già iniziata come potete vedere in realtà noi ancora non abbiamo giocato però alcuni team hanno già giocato vediamo un po' quanto ci danno come anteprima stagionale ci danno sesti quindi ancora nonostante io abbia cercato di migliorare la squadra con qualche acquisto non sono all'altezza della vittoria di questo campionato vediamo cosa combiniamo quindi in questa stagione che non ci vede sicuramente favoriti per la vittoria finale questo è l'epidogo della stagione 26-27 la mia seconda stagione era Bloomfontein Celtic ma la prima che posso gestire dall'inizio alla fine ci davano sesti come avete visto nella schermata precedente siamo arrivati comunque terzi invece a pari punti della seconda però a 8 lunghezze dalla prima avevamo una squadra comunque non all'altezza l'avevamo visto in precedenza dovevo lavorare un po' speravo però di portarmi a casa a qualche competizione nazionale in più perché sì siamo comunque arrivati in semifinale di Champions ed è un risultato clamoroso perché non eravamo attrezzati per arrivarci però vinciamo solo la Knockout Cup sudafricana perdiamo l'FA Cup ai quarti e l'anno scorso l'avevamo vinta e parliamo secondi nella Super 8 sudafricana e anche qui secondo me si poteva fare di più quindi è un bottino un po' magro però è anche vero insomma che siamo ancora una piccola società vi faccio vedere che non c'è tanta storia in questo Bloomfontein Celtic andiamo a vedere cosa hanno vinto in passato innanzitutto non ho mai vinto un campionato questo la dice lunga sul fatto che non sia chiaramente uno squadrone hanno vinto due FA Cup sudafricane ma una l'hanno vinta con me nel 2026 l'altra nell'85 dopodiché hanno vinto una Confederation Cup questo è molto importante perché è una competizione che dovremmo riuscire noi a vincere per questo Johnny Man Arco Edition ma l'hanno vinta nel 2024 quindi in realtà loro non l'hanno vinta ma l'hanno vinta solamente durante la simulazione appunto del gioco poi hanno vinto due Super 8 una realmente nel 2005 un'altra nel 2025 quindi come simulazione di gioco e poi due Knockout Cup una vinta con me nel 2026 un'altra in Realty nel 2012 insomma è una squadra che questi sono trofei minori è una squadra che non ha una grande storia non ha una grande tradizione siamo a maggio del 2028 è la terza stagione quella che andremo a vedere adesso la stagione 27-28 ovvero la seconda che posso gestire dall'inizio alla fine qui c'è una svolta clamorosa passo dal 4-5-1 al 4-3-3 posso mettere il 4-3-3 finalmente perché ho comprato due ali due attaccanti esterni nel precampionato di questa stagione che andremo a vedere e posso permettermi di mettermi in campo con un modulo simile a quello che poi vi ho presentato su YouTube ovvero il Pepluculus qui però ancora non si chiamava Pepluculus e stavo ancora lavorando la creazione di un modulo che provasse a mettere un po' più di dinamismo ma anche un po' più di palleggio questo è il 4-3-3 che ci fa vincere cosa? andiamo a vedere innanzitutto il campionato con 74 punti con ben 5 punti in più rispetto al Cape Town City con 18 gol subiti e 73 gol fatti quindi siamo il miglior attacco e allo stesso tempo siamo anche la miglior difesa c'è anche una mostruosa differenza reti di 55 punti sono numeri completamente diversi rispetto a quelli che avevamo negli scorsi anni perché insomma la squadra è sicuramente riuscita a modificarsi a migliorarsi riusciamo tra l'altro anche a vincere un'altra volta l'FA Cup sudafricana e vinciamo anche la Knockout Cup per il secondo anno di fila purtroppo però veniamo eliminati dalla Super 8 vinciamo però la Champions League africana andiamo a vedere innanzitutto la rosa nuova e soprattutto la finale di Coppa dei Campioni africana vediamo come è stata portata a casa come potete notare il valore dei giocatori è diverso rispetto a quello dell'anno scorso non è cambiato tantissimo in termini di valore massimo perché l'anno scorso il giocatore che costava di più era un portiere da 500.000 euro mentre adesso abbiamo un centrocampista centrale da 675.000 euro però potete anche notare che mentre l'anno scorso c'erano appena due giocatori un po' più costosi degli altri stavolta insomma abbiamo puntato più sul collettivo abbiamo puntato più sul comprare buoni giocatori nei vari reparti e questo ci ha permesso poi di vincere il campionato e la Champions africana il giocatore che vale di più è questo stato Matt Lee centrocampista centrale che ha buona visione di gioco buona tecnica, buon controllo a palla volevo creare un modulo che cercasse di far girare un po' di più il pallone a centrocampo e che sfruttasse giocatori veloci sulle fasce e sono riuscito a portare a casa il successo anche perché ho trovato lui che mi ha permesso appunto di fare questo perché in un campionato come questo trovare un giocatore a centrocampo che abbia queste qualità tecniche è davvero difficile questo invece è il centravanti titolare che attualmente è nazionale ed è per questo che non era in formazione ma è lui quello che ci ha portato a ottenere i successi che abbiamo ottenuto guardate qui, 41 presenze, 35 gol in totale è un giocatore molto agile, molto veloce si sa muovere senza palla la tecnica è veramente bassa questo purtroppo gli ha impedito di fare ancora più gol perché la tecnica è fondamentale insomma quando si va poi al tiro però la finalizzazione è molto alta 15, anche il dribbling è molto alto abbiamo preso tantissimo sui colpi di testa ma infatti abbiamo creato un modulo un 4x3 che puntasse soprattutto ai cross bassi e quindi era meno importante che lui fosse forte nei colpi di testa comunque è un giocatore più alto rispetto a Gustavo Viera è alto 1,80m questo è il nostro diciamo giocatore più rappresentativo questa è la rosa della nostra squadra andiamoci a gustare la finale di Champions League africana la Champions League africana la vinciamo contro gli Orlando che l'anno prima ci avevano eliminato in semifinale di Champions League vediamo il gol, vittoria su calcio d'angolo si tratta di un colpo precisissimo sul primo palo che ci porta intorno al 40esimo a vincere questa competizione veramente importante per il proseguo del Johnny Manarcore Edition e con la conclusione di questa stagione strabiliante in cui tra le altre cose vinciamo anche la Champions League africana si conclude il mio percorso con i Celtic dobbiamo lasciare questa squadra perché parteciperà un'altra volta a una competizione che ho già vinto che mi serviva però per portare avanti il Johnny Manarcore Edition ma io devo vincere la Confederation Cup africana quindi cosa faccio? provo a cercare qualche squadra che disputerà l'anno prossimo la Confederation Cup africana e invece mi viene offerta l'opportunità però di finire in Sud America quindi cosa faccio? mi sposto in Sud America e rimando la vittoria della Confederation Cup africana andiamo a vedere quindi la prossima squadra che andremo ad allenare prima però vediamo un po' le regole di questo campionato sudafricano un po' per i più curiosi innanzitutto le prime due finiscono a fare i turni preliminari di Champions africana la terza e la quarta partecipano alla Confederation Cup ma la prima prende un milione e trentotto ok obiettivamente pochi non sono qui dove insomma i giocatori non valgono tantissimo in Sud Africa si possono registrare fino a 99 giocatori attenzione però 5 massimo possono essere gli stranieri non extracomunitari proprio stranieri quindi non sudafricani quindi o trovate giocatori sudafricani di proporzioni gargantuesche e non ve ne sono tanto per chiarire o dovete aspettare la nascita di qualche regger pazzesco quello si può succedere oppure dovete rinfoltire le vostre fila con 5 giocatori provenienti dal resto del mondo questa è la situazione per quanto riguarda la registrazione dei giocatori in Sud Africa vediamo qual è stata la mia avventura successiva questo è il sunto quindi della mia avventura con i Bloomfontein Celtic abbiamo vinto uno scudetto abbiamo vinto anche due FA Cup due Knockout Cup e una Champions League africana poi come vi ho anticipato mi dimetto nell'attesa di trovare una squadra sudafricana che mi permetta di giocare la Confederation Cup africana però trovo invece una squadra argentina mi cifiondo sperando insomma di fare un notevole passo in avanti mai fu una scelta più sbagliata questa della Tejeresh perché era una squadra veramente inguardabile una squadra che doveva competere teoricamente per la metà classifica e invece veniva fuori da una sequenza incredibile di sconfitte io vado lì insomma spero di provare a cambiare un po' le sorti ma in realtà in realtà è un disastro con il Tejeresh rischio per la prima volta veramente in questo giorno di essere esonerato voi sapete insomma che non si può essere esonerato come vi ho anticipato alcuni minuti fa ora prima di andare a vedere cosa ho combinato con il Tejeresh prima di vedere la squadra inguardabile che aveva questa squadra argentina andiamo a vedere quello che è stato il mio percorso con la Danimarca perché sì dal 24 al 28 ho anche allenato questa nazionale una nazionale che aveva qualche elemento interessante obiettivamente però diciamo che ci stavano alcuni settori che erano veramente scarsi non mi hanno permesso mai di vincere nulla come potete notare non c'è nulla in dati da ricordare però cerchiamo di fare anche un recap dal 24 al 28 con quello che ho combinato o che non ho combinato con la Danimarca la mia prima partita ufficiale con la squadra danese è questa contro l'Islanda 3 a 0 in quelle che poi sono le National League siamo però nella divisione B cioè non siamo nella massima divisione delle National League abbiamo un girone comunque abbordabile perché oltre all'Islanda ci sta la Slovenia e la Bosnia-Herzegovina tra l'altro diciamo questa è la squadra con la quale l'Italia ha fatto una figura barbina diciamo chiaramente comunque vinciamo quasi tutte le partite a parte questa sconfitta contro la Bosnia fuori casa 2 a 3 e ci qualifichiamo per disputare la serie maggiore la serie A delle National League questo è quello che combiniamo nel 2024 nel 2025 ci sono poi le qualificazioni alla Coppa del Mondo Coppa del Mondo del 2026 anche qui percorso stratosferico battiamo anche squadre importanti come l'Olanda per 3 a 2 fuori casa e non è un risultato da poco poi in casa ci riconfermiamo ancora con un 2 a 1 sempre sull'Olanda sono fiducioso penso di poter fare diciamo un percorso importante con questa Coppa del Mondo del 2026 anche se chiaramente non sono illuso sono sicuro di non poterlo vincere però penso di poter dare una mano importante per farmi conoscere meglio sfruttare la Danimarca per magari finire poi in una nazionale maggiore vi ricordo che con una squadra europea non dobbiamo vincere un europeo tra parentesi andiamo avanti c'è la Coppa del Mondo del 2026 purtroppo usciamo subito ai sedicesimi contro l'Uruguay eravamo partiti così bene in questo girone G di Coppa del Mondo con un nuovo format dove infatti ci sono solamente tre squadre passano le prime due quindi diciamo che è semplice passare bisogna semplicemente non arrivare terzi e sono tre squadre nel girone avevamo Senegal e Iran purtroppo però ripeto perdiamo contro l'Uruguay andiamo a vedere chi vince la Coppa del Mondo del 2026 questa è la finale della Coppa del Mondo del 2026 abbastanza strana insomma Turchia in finale contro il Portogallo però vincere Portogallo voi sapete insomma che il Portogallo in questo gioco è davvero molto molto forte perché ha un sacco di giocatori giovani davvero che possono fare la differenza nel proseguo degli anni perché diventano davvero fortissimi ad ogni modo tenete presente che il Portogallo è campione del mondo del 2026 torniamo a noi sempre nel 2026 possiamo giocarci finalmente nel National League di divisione A quindi siamo insieme alle squadre più forti e a parte il pareggio fuori casa 1 a 1 con la Germania ci stanno dei risultati importantissimi la vittoria in casa contro la Germania ci sta la doppia sfida vinta col Belgio 4 a 2 in casa e 1 a 0 fuori casa insomma mi sfreggo le mani perché so che posso andare a partecipare a queste semifinali di National League con una squadra che insomma se l'è guadagnato il posto e ha dimostrato di essere una buona nazionale tutto sommato poi andremo a vedere pure i nomi che ci sono che non sono comunque fantasmagorici vediamo che succede nel 2027 ci sono innanzitutto le qualificazioni per Euro 2028 in un girone abbordabile dove ci sono Georgia Slovenia Slovacchia Lituania e infatti ci qualifichiamo come primi l'unica partita che sbagliamo è fuori casa contro la Slovacchia per il resto le vinciamo tutte purtroppo le semifinali di National League ci vedono contro l'Olanda l'Olanda in precedenza l'avevamo battuta però qua ci fanno un bello scherzetto insomma e ci butta fuori giochiamo anche la finale per il terzo posto ma perdiamo anche quella perché becchiamo niente poco di meno che i campioni del mondo il Portogallo arriva finalmente Euro 2028 nel girone troviamo l'Olanda che ci ha buttato fuori dalla National League ci sta la Turchia che è arrivata in finale di Coppa del Mondo nel 2026 poi ci sta la squadra Materasso la Repubblica Ceca e di fatti noi vinciamo solo con la Repubblica Ceca pareggiamo con la Turchia e poi perdiamo contro l'Olanda purtroppo essendo qualificati come secondi beccheremo sicuramente uno squadrone agli ottavi vediamo chi becchiamo agli ottavi agli ottavi becchiamo l'Italia tutti a casa dopo questo 3-1 in cui segnano Barella Riccardi e Ken mi poteva andare sicuramente meglio avrei potuto beccare una squadra sicuramente meno forte questa Italia è davvero ricca di giovani talenti e quindi tutti a casa io non è che non avessi proprio una squadra decente insomma ci sta Dolberg anche se ormai si sta invecchiando diciamo che Dolberg era molto più efficace su FM19 almeno per quelle che sono state le mie esperienze io l'ho avuto anche a Roma Dolberg ed è stato un disastro eppure ha tutto al posto giusto forse quello che gli manca è un po' più di aggressività di carisma ma insomma è un giocatore che ha qualità tecniche mentali e fisiche sicuramente per far bene però o ecopania o insomma a me comunque non mi ha mai fatto una bella impressione su FM20 C'è Pionesisto sicuramente un giocatore interessantissimo che conoscerete un po' tutti quanti tra l'altro a 33 anni si riporta ancora bene le statistiche anche se insomma non era più nel fiore degli anni ci sono anche Scovolsen giocatore sicuramente talentuosissimo purtroppo però come potete notare qui parte dalla panchina perché la condizione non era eccellente non poteva giocare questa partita ci sta Robert Scoob anche lui non è niente male anche se chiaramente non è un fenomeno e poi a 32 anni ha già perso le qualità fisiche ad ogni modo questa è la partita che mi butta fuori dall'europeo e dopo questa esperienza negativa dell'europeo del 2028 capisco che se resto in Danimarca non combinerò mai nulla di buono quindi mi dimetto dalla Danimarca dopo il fallimento dell'europeo quindi mi dimetto dalla Danimarca vado alla ricerca di un altro team e finisco in un club argentino come avevo anticipato finisco al TGRS ma come avevo anticipato è una pessima scelta perché l'obiettivo della società era terminare questa prima fase nella parte alta della classifica ora il campionato argentino la primera division è divisa in fase 1 e fase 2 la fase 1 non è nient'altro che tutte le partite di andata mentre la fase 2 non è nient'altro che tutte le partite di ritorno loro però le dividono appunto in fase 1 e fase 2 al tempo c'erano anche due campionati ma ormai nell'era moderna per vincere il campionato bisogna fare più punti possibili tra la fase 1 e la fase 2 quindi puoi anche non vincere né la fase 1 né la fase 2 ma se insomma sommi i punti e sono più alti degli altri team vinci alla fine il campionato capirete poi quando parleremo di quello che ho combinato con la successiva squadra perché qui che succede qui arrivo il 2 di settembre la mia prima partita è una sconfitta con il Gimnasio alla Plata la seconda è una sconfitta contro l'Argentino Juniors però perlomeno la mia terza partita è una vittoria in Coppa Argentina proseguo anche con due vittorie importanti in campionato e penso di poter riuscire a trovare finalmente il bando della matassa il problema è che dopo il pareggio contro i Velez ricominciano le sconfitte usciamo pure dalla Coppa Argentina ora vi faccio vedere la visione societaria come potete notare qui in alto a destra la mia valutazione è 4 che vuol dire che sto lì per essere esonerato e come vi ho detto in precedenza però questa è una challenge non è uno scenario quindi l'esonero comporta automaticamente il fallimento perché in ogni challenge non si può essere esonerati sono questi i dicta delle challenge su Football Manager ora io ho comunque raggiunto la Coppa Argentina come obiettivo minimo però la dirigenza voleva la parte alta della classifica mancano due giornate al termine della prima fase della divisione argentina se non riesco a trovare un'altra squadra entro queste due giornate sono fregato perché non posso dimettermi dimettersi con una valutazione negativa in una challenge equivale a essere esonerati quindi non posso fare questa mostra mi tocca trovare un altro team riesco a trovare un altro team vorrei dire anche una cosa per quanto riguarda Football Manager quando vengono dati degli obiettivi all'inizio della stagione però questi obiettivi non vengono mantenuti e si licenza un allenatore quando si va a prendere un nuovo allenatore bisognerebbe poi ricalibrare gli obiettivi perché se io ho preso una squadra a metà situazione della stagione fase 1 e sta andando male non mi puoi continuare a chiedere la parte alta perché è impossibile che io la raggiunga quello è il discorso quindi questo 4 è viziato dal fatto che comunque la squadra era andata male già prima di me e a me doveva essere chiesto semmai una zona media non sicuramente una zona alta comunque vi faccio vedere anche come giocavo perché sì ancora chiaramente non avevo creato i moduli nuovi su FM20 stavo ancora utilizzando quelli di FM19 che però non si sono rilevati performanti sul 20 come lo erano sul 19 quindi questo 4-5-1 era assolutamente un modulo non adatto ancora per farmi vincere tanto infatti poi con la prossima squadra creeremo un modulo diverso un 4-1-4-1 ma vediamo come è andato il proseguo di questa esperienza riesco ad abbandonare il tagliere S il 25-11-2028 perché mi prende l'atletico Tucumán il 25-11-2028 ho fatto richiesta quindi all'atletico Tucumán quando ero ancora al Teier S e se non mi avessero preso avrei perso la challenge ovviamente il journeyman è stato condotto sempre in live quindi il discorso è che le persone si rendevano conto di quello che stava accadendo non ci sono mai state partite chiaramente ricaricate non c'è mai stato alcun trucco non c'è stato mai nessun imbroglio anzi stavo lì per perdere appunto per la mia prima volta una challenge male perché insomma non ero mai stato esonerato su Football Manager da quando ci gioco quindi dall'edizione 2002-2003 ad ogni modo mi salvo veramente in calcio d'angolo e finisco al Tucumán quello che combino al Tucumán però non ve lo faccio vedere adesso perché lo vedremo nel prossimo video quando parleremo della mia esperienza totale in Sud America vediamo invece quello che combino con la Costa d'Avorio perché tra il 31-12-2028 e il 12-8-2029 sono anche commissario tecnico della Costa d'Avorio vi ricordo che con la Costa d'Avorio io devo provare a vincere una Coppa d'Africa perché tra gli obiettivi del Jonnyman Arcore Edition c'è da vincere anche una Coppa d'Africa con una squadra africana vediamo il nostro percorso questa è la rosa della Costa d'Avorio il giocatore più rappresentativo è questo Serge Ballo 85 milioni perché gioca nel Manchester City ed è un centrocampista centrale vi faccio vedere un po' le sue statistiche sono veramente clamorose sia a livello fisico mentale che tecnico poi ci sta quest'altro giocatore Regen che gioca nel Paris Saint Germain è un terzino quindi vi faccio notare che non ci sono giocatori d'attacco ancora tra i più forti della rosa però insomma è un terzino sicuramente molto abile anche se non ha tanta finalizzazione quindi non ci servirà sottoporta poi ci sta ancora questo Michael Kwame giocatore chiaramente reale invece col quale abbiamo fatto grandi cose nel Cagliari nella sede per chi ha seguito la serie su YouTube del Cagliari finalizzazione bassa però questa è la punta titolare della squadra però la finalizzazione è un po' bassa però fisicamente sta messo molto bene anche mentalmente poi il quarto giocatore più rappresentativo è Frank che sì ovviamente grandissimo centrocampista che sa tirare anche i rigori quindi insomma abbiamo un'arma in più questa è la rosa che ci porta a fare cosa? vediamo la mia prima partita ufficiale con la Costa d'Avorio è la prima partita della Coppa d'Africa perdo anche 1-0 viene espulso al 62esimo il signor Guelli e poi guarda caso due minuti dopo l'espulsione segna il Burkina Faso con Traoré e perdiamo la nostra prima partita comincio a vedere gli spettri della Danimarca insomma comincio a pensare di essere un po' sfigato con le nazionali riesco comunque a qualificarmi come secondo il Burkina Faso si qualifica come prima a punteggio pieno perché batto comunque Zimbabwe e Lidia passano le prime due di ogni girone più le migliori terze andiamo a vedere gli ottavi questi sono gli ottavi noi riusciamo a superare 4-0 il Camerun in una partita veramente stratosferica della Costa d'Avorio segna tripletta Bayou che come potete notare comunque non è sicuramente un fenomeno ai quarti becchiamo il Sudafrica vinciamo per 1-2 con reti di ballo e Kwame quindi per un solo gol riusciamo a superare il Sudafrica che addirittura era passato in vantaggio perché al 18esimo segna loro poi noi al 19esimo pareggiamo subito e poi segniamo al 44esimo dopodiché ci tocca vedere cosa combiniamo in semifinale in semifinale passiamo con un rotondo 3-1 contro il Senegal Senegal che è una bella nazionale insomma quindi facciamo davvero una bella impresa segna tripletta Kwame questa è la partita di Kwame che ci porta in finale vediamo cosa combiniamo in finale in finale battiamo 4-0 niente poco di meno che la Nigeria di Osime vediamoci questi 4 gol tutto inizia quindi al sesto minuto con il rigore di Chessy gustiamoci quindi il rigore di Chessy che non spiazza il portiere ma comunque la tira bene il portiere non ci può arrivare poi ci sta un'azione regalata di Haribo palla regalatissima batti ribatti furibondo e poi il mitico Cornet riesce a mettere in gol siamo stati fortunati con questo secondo gol lo ammetto terzo gol c'è una pari inattiva e Baio sovrasta il difensore centrale poi per il quarto gol ancora un regalo stavolta di Aina che la mette così al centro di Ae la passa Kwame da lì non può sbagliare sicuramente e vinciamo 4-0 rotondissimo risultato clean sheet in finale e vinco la Coppa d'Africa in questo episodio come avete visto ho vinto due competizioni fondamentali per il Journal of Core Edition ovvero la Champions League africana e la Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio questa è la mia situazione come allenatore queste sono le mie statistiche ho già 20 in motivazione quindi sono cresciuto nel corso del tempo ho raggiunto già da un pezzo il patentino massimo siamo ormai al 2029 quindi insomma sono passate anche diverse stagioni vediamo come sono messo nell'albo d'oro e poi andiamo a vedere il recap dei trofei che ho vinto alla decima stagione ho appena 919 punti nonostante abbia vinto sei campionati dieci coppe nazionali tre trofei continentali e uno internazionale che sarebbe appunto la Coppa d'Africa e un po' poco perché chiaramente il punteggio risende della reputazione dei campionati per club che non sono ancora eccezionali vi faccio però notare che ho vinto sei campionati su dieci stagioni disputate non sono pochi superare il 50% tra stagioni disputate stagioni vinte e tanta roba perché si arriva anche a stagioni in corso e chiaramente non si può pretendere di vincere subito quindi nonostante abbia cambiato tante squadre ho vinto già tantissimo sto andando molto bene rispetto al journeyman fatto nel 2019 e questo journeyman è ancora più difficile andiamo a vedere il recap delle pietre miliari questo è il recap delle pietre miliari questo è il nostro percorso con il Celtic quello sudafricano poi questa è la nostra la parentesi con il Tejeresh dove ce ne siamo assolutamente scappati con la Danimarca non abbiamo vinto nulla con il Tucumana ancora non vi faccio vedere cosa ho vinto con la costa d'Avorio abbiamo vinto la coppa d'Africa siamo arrivati quindi al termine di questo secondo episodio del journeyman dove abbiamo rischiato veramente tanto in diretta perché questo è un journeyman condotto appunto interamente in live abbiamo rischiato di perdere la challenge col Tejeresh ma alla fine siamo riusciti comunque a mantenere il punto e abbiamo anche vinto tante 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 competizioni io vi lascio qui vi ricordo che tra pochi giorni uscirà anche l'episodio 3 con tutto quello che avremo combinato in Sudafrica se avete chiaramente delle curiosità mi raccomando scrivetele nei commenti e non vi perdete nemmeno le live mi raccomando da lunedì al venerdì si va sempre in live su quella piattaforma viola dalle 20.30 mentre il sabato e la domenica si va in live dalle 17.00 challenge davvero difficilissima buon salvone e buon proseguimento di giornata a prossimo video di FM20 a prossimo video